Ah, regà, buongiorno! Siamo qua da sto rincoglionito perché è un'altra missione per noi! Pazzocco! Cioè, state zitti, va! Parla con me! Oh, ehi! Mi hai portato i dati, non ti? Ho fatto questo, per i miei pezzi. Ehi, grazie a te, sono in un'altra volta, ragazzi. Queste sampli e le vie idee saranno parte di un nuovo album, ragazzi! Grandi temi, grandi riffs, sex, morte, non morte, Le vie idee saranno, ma, sono un po' di pratica con le le rinche, non ti dimentiché. Non, tu non credo una cosa. Screami di fan, screami di guitari... Oh, ehi! Deve che andare a mio paio e prendere il chopper. Apocalipsi ha bisogno di un'escalante, e Ricky Rex va andare con i suoi di pietro! Metà come f***! E' il cover dell'album, tu stai, lavorare sui musici, and I'll get your chopper for you oh yeah oh killer cuz I got this song brewing and I gotta keep hold of it oh you need to find Misha choppers locked away upstairs at my place gotta be careful cuz this one time when we didn't lock up when the party finished the whole upstairs was like empty totally cleaned out so yeah Misha she had the key then I'll get it from Misha best go around the back through the kitchen oh and if the band are there and you know milk in their encore could you send them up to the big gig in the sky I'll hand deliver their backstage passes myself boy ok quindi questa mannaia sarà qualcosa cioè sarà un'arma o effettivamente la mannaia di di e boh ah è una chitarra ok ok va buono buono annamo annamo aie raga uscito la parte sbagliata vabbè ok guys saliamo 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 problemi 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 e proviamo subito il nuovo acquisto sium boia sium sium beh è una figata non so quanto in fin dei conti sia forte non lo so forse più per tanti zombie insieme l'efficacia più per tanti zombie insieme però comunque figa è di per sé pappa per zombie ma che cazzo ma anche che senso bro wow potentissimi la scama perché uno zombie e no ho detto che cazzo ci fa venire qua se sappiamo già che la chiave c'è la miscia però se mi scena zombie chiaramente la cosa ha già più senso dobbiamo mettere la musica a palla con cosa facciamo un bordello questo è coltello si dai si dai vediamo un bel bordello spero eh solo tre quattro dai guys come on come on dai voglio più zombie facciamo un cacciarone dai come on come on come on non sono quanti volevo però opera ma questo è un coltello e una spadina sembra una via di mezzo in realtà è lei miscia vero ok vestita tipo da football però potrebbe comunque essere lei è figo però dai devo essere sincero e che cazzo dai ho fatto il calcio ma guarda te va vabbè tornati ah ma è morto quindi è vero Sì 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 Beh, è stata una figata È stata proprio una figata Perché aprire la porta quando puoi spaccarla? Cioè, non l'ho capita questa cosa Colla, ci serve come pane Mi pareva di aver visto una colletta E' ricchissimo, quindi sarà questa Però noi non possiamo entrare Zon, zon, zon È un'altra stanza questa, mi sa Sono uscito dal balcone Ho provato a fare un giretto Potrebbe essere anche la nostra giusta Dove stiamo qua? Non ho capito bene che giro abbiamo fatto dal balcone Devo essere sincero Però, ok Questa? Eh, yes Ehi Eh, che cazzo Ehi Madò Si è incastronato nel gonfiabile, signor zombie Può essere Mi direi da andare a consegnare E andiamo là Ricky, brutto rincoglionito Ricky Oh, tu hai Chopper Killer Questo è tutto New Don Oh, tu hai giocando musica così spine-shakingly epic i zombi's heads literally explode love it, very zeitgeist-y, very now do us a favor though, make Jesse your tour manager she'll do right by you and you can trust her to keep you alive yeah, yeah that works, another new start hey, you really help me out oh, I got this big sword I used on the Knights of the Sound Fable tour you want it? yes, 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 yes ah, vabbè, speravo fosse qualcosa di più simpatico una leggendaria va buono, va buono, lo accettiamo comunque, dai io mi distruggo solo queste cosette diamo un'occhiata giusto così, vediamo ventata negli arti, ok, che donna zombiamenta l'agilità no, cioè proprio non... no Vabbè, è lo stesso